Buongiorno a tutti, siamo in leggerissimo ritardo, abbiamo a disposizione due ore, speriamo di poter occupare interamente e senza indugio cominciamo. Questo è il terzo appuntamento della serie dei seminari organizzati nell'ambito della scuola dottorale, del dottorato in scienze giuridiche europee e comparate. Le prime due occasioni d'incontro sono state veramente molto interessanti, frequentate, seguite, sono state l'occasione per l'apertura di un ampio dibattito insieme al nostro illustre amico e collega Gerhard Kirchner. Devo ricordare che Luca Nogler, che ringrazio di essere qui anche oggi, Fulvio Cortese ed io abbiamo pensato all'inserimento della presentazione del libro che oggi discutiamo nell'ambito dei seminari, proprio perché quando abbiamo pensato ad una presentazione ci è apparso subito chiaro che il contesto ideale in cui poter affrontare la discussione di una recente raccolta di scritti minori di Georg Jelinek in traduzione italiana era proprio il seminario di Gerhard Kirchner sulla scienza giuridica tedesca tra 8 e 900. Di Jelinek si è già parlato nella scorsa occasione e oggi ne parliamo a proposito di un libro molto recente pubblicato dalla curatrice che è qui con noi e che ringraziamo di essere con noi qui che è Sara Laggi. Non è la prima volta che Sara viene da noi, è stata già qui un paio di anni fa quando tenevo un corso su Kelsen e fu l'occasione per discutere del Kelsen giurista e politico. La collega ha pubblicato un bel libro nel 2007-2008 sul pensiero politico di Kelsen. In Italia è uscito presso una piccola casa editrice che si chiama Genovese, si chiama Name, esiste ancora? Io penso sì, se non esiste non è certo colpa del tuo libro che invece ha avuto molto successo, è stato tradotto in Spagna in una collana molto importante, ha avuto una bella e grande circolazione internazionale e dopo quel libro è arrivato un altro libro su Karl Renner e sul problema della nazione in Austria nella crisi dei grandi sistemi politici e degli ordinamenti giuridici tra fine ottocento e primo novecento soprattutto con la prima guerra mondiale e quasi in conseguenza il discorso si è spostato su Jelinek, su Georg Jelinek. Il volume di cui oggi parliamo è stato pubblicato da Rubettino in una bella collana e contiene come recita il sottotitolo scritti di filosofia, politica e diritto. Filosofia, politica, diritto. Una tridimensionalità del pensiero di Georg Jelinek. In una facoltà giuridica e davanti ad un pubblico di dottorandi e di colleghi non ci sarebbe neppure bisogno di dire quanto Jelinek sia stato importante per la tradizione giuridica italiana. La scienza italiana del diritto pubblico è nata, come dire, innestandosi su di un tronco che è certamente non costituito solo dall'opera e dal pensiero di Jelinek ma fondamentalmente riferendosi a Jelinek. Il nome di Orlando può bastare e Orlando è stato colui che in Italia ha introdotto prima di ogni altro e anche dopo ogni altro il pensiero di Jelinek traducendolo e facendolo circolare e in qualche modo anche incarnandolo perché la sistemazione precoce, perché Orlando era molto giovane quando scrisse i suoi manuali di diritto costituzionale e di diritto amministrativo ma quasi l'incarnazione nella tradizione italiana di un pensiero che nasce soprattutto da Jelinek. Dunque, perché parlare di Jelinek? Perché qui c'è Jelinek, filosofo, politico e giurista. Politico. Saralagi insegna storia delle dottrine politiche, anzi storia del pensiero politico contemporaneo, questa è la denominazione della tua disciplina, della tua insegnamento, in una facoltà di scienze politiche o meglio in quella che fino a pochissimo tempo fa si chiamava ancora facoltà di scienze politiche e oggi ha una denominazione che io stento a ricordare, mi pare che si chiami struttura, dipartimento di culture al plurale, società e politica. Purtroppo una, io lo dico sempre, lo dico anche oggi, una malpensata riforma ha costretto o ha convinto quasi dappertutto i nostri colleghi universitari a ridenominare le loro facoltà in modo tale che non si capisca quasi più che cosa si fa e che cosa sono quelle facoltà. E' merito di Luca, glielo dobbiamo riconoscere sempre, avere insistito perché questo nostro dipartimento continuasse a chiamarsi facoltà di giurisprudenza, noi siamo ancora una facoltà di giurisprudenza nel nome e non solo nel nome. Sara insegna storia del pensiero politico e il suo Kelsen è un Kelsen riconquistato alla storia del pensiero politico. Un anno prima della pubblicazione del libro Sara ha tenuto una bella e importante conferenza presso l'Accademia delle Scienze Ungherese a Budapest e in quella occasione ha rivendicato con forza l'appartenenza di Jelinek alla storia del pensiero politico. Jelinek è un giurista, lei diceva, ma non è solo un giurista. Qui noi forse potremmo dire Jelinek è un politico proprio perché giurista, perché appartiene a quella grande tradizione ininterrotta, alla grande tradizione giuridica occidentale, nella quale essere giuristi voleva dire essere i costruttori di una scienza architettonica della società, di una scienza disciplinatrice della società in tutti i suoi aspetti, non solo nelle relazioni private, ma più ancora in quelle pubbliche. Quindi un grande maestro del pensiero giuridico e politico. Sara insegna a Torino, prima un po' celiando dicevo che un grande poeta torinese vissuto tra 8 e 900 diceva in una poesia famosa a Torino città favorevole ai piaceri, non agli studi evidentemente, era uno studente in giurisprudenza quel poeta, era Guido Gozzano, non si laureò mai, ma diceva appunto «O Torino città favorevole ai piaceri». E un po' celiando, ma un po' per serietà, dicevo che Sara dimostra invece che Torino può essere anche una città favorevole agli studi, perché sta compiendo degli studi molto interessanti. lo dico davanti alla sua maestra, perché oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi Lea Campos Boralevi, con la quale Sara si è laureata nell'Università di Firenze, dove peraltro ha cominciato la sua carriera di docente. Tu hai insegnato a lungo nelle università americane di Firenze, agli studenti americani che vengono a studiare in Italia e quindi ha una esperienza internazionale che non è solo fuori d'Italia, ma anche in Italia. Oggi discutono con lei del suo libro che ha come titolo principale Il tutto e l'individuo, che era Stilker naturalmente, Riccardo Salomone e Fulvio Cortese, ma naturalmente il dibattito è aperto a tutti e so che non saranno questi i soli interventi. Ho chiesto a Sara di dirci qualcosa del suo libro, come e perché Jelinek, e poi discuteremo. Grazie di essere qui, grazie ancora di essere con noi. Prima di tutto vorrei ringraziare, e non è certo né forma né retorica, volevo ringraziare davvero di cuore il professor Quaglioni, il professor Nogler, i colleghi qui presenti, per avermi dato l'opportunità oggi di presentare questo libro, Il tutto e l'individuo, scritti di filosofia, politica e diritto, in cui ho sostanzialmente tradotto, con uno studio introduttivo, quattro saggi cosiddetti minori di Jelinek. Un saggio che in realtà era la dissertazione di Jelinek su Schopenhauer e Leibniz, un secondo saggio di Jelinek sul rapporto fra Goethe e Spinoza, un terzo saggio intitolato di Zukunft des Krieges, il futuro della guerra, che è un saggio classificabile come saggio di diritto internazionale, e poi ho chiuso questo quartetto con Das Recht der Minorität, il diritto delle minoranze, che è uno dei saggi più densi da un punto di vista politico di Jelinek. Ora, io brevemente, come accennava il professore, e vorrei così spiegare appunto il come e il perché di questo studio dedicato a Jelinek. Jelinek mi sono imbattuta dal punto di vista della storia del pensiero politico, anche se ovviamente sono perfettamente consapevole che al di là della mia appartenenza disciplinare, Jelinek rimane essenzialmente prima di tutto un giurista, un giurista e, in quanto giurista, anche pensatore politico. Dicevo che mi sono imbattuta in Jelinek trasversalmente studiando Kelsen. Kelsen frequenta alcuni mesi le lezioni di Jelinek e Heidelberg ed ero rimasta così abbastanza colpita dal rapporto contrastato che si instaura fra i due di evidente antipatia. E poi ero rimasta molto colpita dal fatto che la prima opera veramente importante che Kelsen pubblica, che sono i problemi del diritto pubblico, che è la sua dissertazione, l'Habilitationsschrift del 1911, ha una lunga prefazione nella quale Kelsen conclude dicendo che comunque lui ha scritto quello che ha scritto anche in rapporto a ciò che Jelinek rappresentava ancora all'epoca nell'ambito della scienza giuridica. In questo modo mi sono avvicinata a Jelinek e ho cercato, non solo in questo libro, ma anche in un precedente scritto del 2009, di rivedere e riconsiderare Jelinek come pensatore politico da un punto di vista della storia del pensiero politico. E penso che ci sia molto da dire su Jelinek, pensatore politico, perché dal punto di vista della storia del pensiero politico, Jelinek è uno dei grandi rappresentanti della cultura liberale europea, del liberalismo ottocentesco. Basti pensare semplicemente a quello che è probabilmente il cuore della sua dottrina giuridica, il concetto di Selbstbeschränkung, di autolimitazione. Certo, è un concetto che può essere analizzato da più prospettive, dalla filosofia del diritto, dalla storia del diritto, ci sono delle dottissime dissertazioni scritte a riguardo. Ma dal mio punto di vista parlare di autolimitazione, cioè di uno Stato detentore della sovranità che limita se stesso rispetto, compie un atto di autolimitazione rispetto alla società civile, dire questo significa toccare uno degli elementi teorici più importanti del pensiero liberale, della cultura liberale. E questo aspetto è un aspetto che in parte riemerge anche dai quattro saggi che ho tradotto. L'altro aspetto che io ho trovato rilevante proprio per approcciare, per analizzare Yellinek come pensatore politico è stato quello di riandare a riscoprire, facendo un'opera di traduzione inevitabile, quelli che si possono definire i cosiddetti scritti minori di Yellinek, che poi probabilmente così minori non sono, e che sono tutti contenuti in una raccolta divisa in due volumi, che secondo me è uno dei data base più interessanti per studiare Yellinek, le Ausgewälte Schriften und Reden, che raccolgono, sono due volumi che raccolgono appunto una serie di cosiddetti scritti minori di Yellinek e aprendo questi volumi si trova una ricchezza di contenuti e di interessi straordinaria per cui scrive si occupa di Goethe, si occupa di arte, di politica, di storia delle idee giuridiche, di storia delle idee politiche e quello che ho provato a fare nel libro è selezionare quattro saggi, l'unico che non appartiene all'Eusgewälte Schriften und Reden e l'ultimo, quello sul diritto delle minoranze, con l'intento, direi quasi artigianale, di provare a ricostruire la traiettoria intellettuale di Yellinek, perché era questo poi alla fine che mi interessava, cioè per chi si occupa di storia del pensiero politico, ma mi rendo conto che quello che dico è un'affermazione applicabile pressoché a chiunque, soprattutto a chi fa storia. Dal mio punto di vista è rilevante capire qual è stato il percorso intellettuale di questo giurista, che cosa ha letto, perché l'ha letto, quando l'ha letto, quali sono i suoi punti di riferimento, ma i suoi punti di riferimento non solo relativamente alla teoria del diritto, ma i suoi punti di riferimento nel senso più ampio del termine. E quello che mi è parso di vedere, e qui spiego il titolo di questo mio lavoro, quello che mi è parso di vedere in questi quattro saggi, che in realtà sono estremamente diversi gli uni dagli altri, sono diversi anche come stile, come linguaggio, eccetera, eccetera. Quello che mi è parso di vedere è che in fondo possa esistere un filo rosso che gli accomuna, che io ho sintetizzato nell'espressione, mi rendo conto, non molto bella, ma è la più efficace che io ho trovato, il tutto e l'individuo. Perché penso che Jelinek, giurista e anche pensatore politico e pensatore politico di ispirazione liberale, veda in contemporanea l'importanza dell'individuo, dell'individualità, della singolarità, ma che riporta sempre, sia sul piano filosofico, sia sul piano giuridico, sia sul piano teorico-politico, dentro il cosiddetto tutto. E il tutto è un concetto che in questi quattro saggi viene declinato in termini filosofici, in termini politici, appunto, e in termini giuridici. Quindi, è sì un autore, un pensatore politico, secondo me, schiettamente liberale, che ha un profondo interesse per i diritti di libertà, per la protezione di una sfera di libertà indisponibile da parte dello Stato. è un autore che sente il problema per lui urgente dei diritti delle minoranze. Non scordiamoci che Jelinek è ebreo, ebreo, figlio di un rabbino. Il padre Adolf Jelinek fu, alla fine dell'Ottocento, uno dei grandissimi esperti, forse il massimo esperto di lingua tedesca relativamente alla teologia ebraica. Lo stesso Jelinek è interessato per tutta la sua vita, ad esempio, alla storia delle religioni, delle minoranze religiose. Insomma, un autore che sente, che avverte il problema delle libertà individuali e delle minoranze, anche in rapporto a quello che è il dato meramente biografico, ma che non vede mai l'individuo, nel senso lato del termine, in contrasto con il tutto, cioè in contrasto con la comunità. anzi, per lui sono due elementi che si compenetrano a vicenda. Questa compenetrazione, poi ovviamente può essere, ripeto, analizzata, studiata da tanti punti di vista, a me pareva abbastanza interessante provare a proporre appunto scritti non molto conosciuti, mai tradotti finora in italiano, nel quale questo binomio, il tutto e l'individuo, viene declinato in tre registri stilistici e contenutistici molto diversi, che però proprio per questo ci restituiscono un'immagine estremamente sfaccettata di Jelinek. Jelinek, secondo me questo è un dato sul quale vale la pena, mi soffermo molto brevemente, quando si parla di Jelinek non si ha solo a che fare con un giurista teorico del diritto e dello Stato che scrive imponenti, dissertazioni di diritto pubblico, eccetera, eccetera, e sicuramente è essenzialmente questo, ma ci troviamo di fronte a un intellettuale a 360 gradi che si è occupato veramente di tutto nella sua esistenza ed è per questo, e con ciò concludo perché non voglio rubare troppo tempo a essere prolissa, e con questo, proprio consapevole di questo, a me parrebbe un po' da rivalutare e da tornare a riflettere sull'idea che peraltro ha avuto un successo enorme secondo la quale Jelinek, positivista, avrebbe spalancato poi le porte all'odiatissimo formalismo giuridico di Kelsen. È un'idea che sicuramente ha un suo fondamento, una sua ragione, eccetera, ma forse varrebbe la pena di rivederlo, anche perché quando poi si accosta al nome di Jelinek e a quello di Kelsen, al di là della differenza che è legata a un diverso contesto storico, culturale, ci troviamo di fronte a due giuristi e a due pensatori politici accumunati da una sensibilità secondo me schiettamente liberale, ma che poi interpretano il rapporto fra diritto e politica, diritto e storia, diritto e cultura in maniera sostanzialmente diversa. Quindi questo in estrema sintesi un po' alcuni dei punti sui quali mi sono soffermata appunto traducendo i saggi e poi nel mio studio introduttivo. Grazie. Nemmeno io voglio togliere spazio naturalmente all'intervento dei colleghi però desidero dire quanto sia apprezzabile questo sforzo di ripensamento e quanto possa servire anche di indicazione per chi come i giovani dottorandi si apre alla ricerca nella ricerca nell'ambito di tutte le discipline giuridiche. Ripensare ai classici del pensiero giuridico non è importante solo per chi faccia o intenda fare professione di storico del diritto o del pensiero giuridico è fondamentale per tutti. nel caso di Jelinek veramente devo dire si rivela urgente rivedere in profondità una vulgata quelle idee ricevute che vengono troppo spesso spacciate come una facile verità sulla quale costruire magari delle visioni di comodo della storia dell'esperienza giuridica moderna e contemporanea è il caso di Jelinek ma è forse soprattutto a maggior ragione il caso di Kelsen sul quale pesa una una vulgata resistentissima della quale temo non mi incolpi nessuno per quello che dico ma temo sono responsabili soprattutto non i filosofi del diritto in generale ma insomma un certo modo di declinare la filosofia giuridica che riduce a schemi o tende a ridurre a schemi ciò che a schema non può essere ridotto perché come nel caso di Jelinek forse ancor più nel caso di Kelsen il pensiero di quel grande giurista è qualcosa di estremamente complesso e che ha a fare veramente con la storia costituzionale intesa nel suo senso più vero ecco come storia di ordinamenti costitutivi delle società occidentali con la storia in tutti i suoi movimenti e in un arco di tempo molto lungo Kelsen è morto nel 73 ed è morto esule esule a Berkeley dove dove insegnò political science dove non fu mai accolto come giurista un destino un destino abbastanza triste quello di Kelsen dunque l'esigenza di rivedere in profondità di rivedere criticamente e in questo senso questo contributo ha un valore che va oltre gli studi interni alla tua disciplina un valore di forte comunicazione e di rimessa in contatto tra le discipline io mi permetto di dire che quello che fa questa giovane studiosa mi piace mi è sempre piaciuto perché dice a me stesso che quello che anche io ho tentato di fare quando ero giovane non è stato poi così sbagliato cioè rimettere in comunicazione la storia del pensiero politico con la storia del pensiero giuridico che la divisione tra ambiti disciplinari rigida tra facoltà o tra dipartimenti rende o rendeva quasi impossibile quasi si appartenesse a veramente a mondi diversi e non comunicabili e quindi un esempio importante io do la parola a Gerard Stil mi tango grazie dobbiamo presentare questo libro il primo punto mi pare è un libro molto bello piace tenerlo nelle mani e grazie a Dio abbiamo un libro e non solamente un testo elettronico ma è un bel libro secondo me anche per quel che riguarda lo stile dell'autrice e della traduttrice ho letto questo testo venendo dalla lingua tedesca certamente con grande piacere ho trovato questa bella forma di una retorica scientifica che fa parte dell'alta cultura italiana il libro ha una tematica molto felice scelta molto bene quattro scritti minori di un autore che è famoso per i suoi libri voluminosi e fondamentali su tematiche centrali come diritti pubblici soggettivi i diritti dell'uomo e del cittadino e finalmente la dottrina generale generale dello Stato generalmente così l'attenzione e anche la lettura si concentra e si limita in riguardo a questi lavori principali così con questa traduzione di scritti minori si allarga la immagine dell'autore Jelinek in modo considerevole dando aspetti nuovi e più dettagliati di tale immagine che in qualche senso è un'immagine di marmo così siamo più vicini attraverso questi scritti minori per me come tedesco è impressionante e simpatico come in Italia l'interesse per un autore di nostra lingua e cultura più di cent'anni fa è così vivo l'interesse è così vivo che un tale libro trova un autore un traduttore una casa editrice e alcune presentazioni accademici significa in modo molto impressionante che il dialogo tra le nostre culture scientifiche non abbia fine ma invita e fiorisce mi pare evidente che anche la scelta dell'autrice sia molto felice dei quattro saggi menzionati di tematiche molto diverse e anche da stagioni di vita di Jelitnik molto diverse dalla dissertazione inaugurale in filosofia fino alla relazione sulle minoranze che era dell'anno 1898 cioè dal giust pubblicista maturo sulla cima della sua maestria e della sua fama e le tematiche della filosofia e dalla sua relazione con la letteratura Goethe questioni difficili fra politica e diritto pubblico come quella della guerra e della posizione delle minoranze nel processo politico e nelle Costituzioni così un arco molto largo di problemi e di aspetti è incluso in questo libro non tanto voluminoso arricchisce l'immagine del giust pubblicista di Vienna e di Heidelberg in modo considerevole il titolo generale il tutto e l'individuo segnala che tutti i saggi come è stato menzionato dalla dottoressa Laggi stessa hanno un filo rosso una tematica centrale centrale in questo periodo del fine ottocento ma anche oggi per quel che riguarda l'aspetto del contenuto posso e voglio parlare soltanto dal punto di vista di uno storico del diritto di un germanista non sono giust pubblicista non sono specialista della teoria politica specialmente sono venuto in contatto con Jelinek attraverso un discorso critico tra Otto von Gierke da una parte Jelinek e Max Weber da altra parte un discorso critico in parte in tratti molto brevi note che vorrei anche dimostrare domani nella mia lezione di domani si tratta di differenze filosofiche epistemologiche meno differenze nella materia nella materia consentono sia Weber sia Jelinek molto con Gierke come menzionato anche nel testo sulle minoranze io vedo le differenze sotto l'aspetto della tradizione della scuola storica del diritto da Savigny fino al positivismo giuridico da una parte della pandettistica e della continuazione della visione culturale romantica del diritto dall'altra parte rappresentante Gierke giustamente Sara Laggi ha chiamato Jelinek rappresentante del gius positivismo nel diritto pubblico ma giustamente essa ha nello stesso momento modificato questo giudizio sul nostro autore in riguardo alla sua sensibilità di Jelinek alla dimensione storica alla tradizione di Savigny del storicismo al romanticismo e alla filosofia sia di Hegel sia di Kant tutto questo mi pare è oltre un puro positivismo semplice diciamo vorrei sottolineare queste modificazioni della nostra autrice nel senso con le parole di Sara Laggi cito della complessità di quella stagione del gius positivismo tedesco che egli incarnò e rappresentò la famosa critica di Gierke verso il gius positivismo di Gerbe e Labant cioè una generazione anteriore al Jelinek incontrava un gius positivismo del tutto diverso mi pare che tendeva di escludere la politica e anche la storia in favore di risultati di risultati di una applicazione della norma puramente logica concettuale Gierke nella sua critica apriva l'argomentazione con aspetti della storia di una teoria politica nello stesso modo come Jelinek che usa la storia costituzionale e la storia della teoria politica non solo nel trattato sui diritti dell'uomo e del cittadino ma nel saggio sul diritto delle minoranze in modo molto forte come dire che Jelinek suppone uno spirito speciale dei popoli germanici di individualismo e di libertà e dimostra la sua simpatia per il costituzionalismo di tipo anglosassone specialmente degli Stati Uniti quello è un topos della germanistica così in un certo grado Jelinek fa parte anche della scuola germanista della scuola storica del diritto la scuola germanista che si è sempre occupato anche del diritto pubblico anche nell'atteggiamento di un liberalismo moderato organico storico mentre Gerber e Labant prima usavano il metodo di una giurisprudenza dei concetti sviluppato dalla panettistica nel campo del diritto privato evidentemente le differenze fra Jelinek e Weber sono di altro carattere non riguardano tanto la interpretazione materiale della scuola costituzionale ma una posizione epistemologica Jelinek e Weber appartengono al neocantismo e criticano da questo punto di vista la posizione metafisica di Gierke così si tratta di queste posizioni importanti ma di filosofia in questo senso vorrei dalla mia vesta della storia della scuola storica del diritto sottoscrivere e sottolineare con vigore la visione di Sara Lagide di un positivismo molto maturo e complesso del grande gius pubblicista Jelinek è un gius positivismo sì ma al di là del gius positivismo classico con una riflessione storica e di filosofia ampia proprio questo mi pare dimostra la scelta del volume da presentare grazie grazie per questa nota critica che riporta la lettura dell'autore nel seno della esperienza della grande esperienza germanistica tra 8 e 900 è vero è vero che c'è una profonda differenza è un salto dalla generazione precedente e da questo punto di vista il mio pensiero torna sempre al ruolo che Jelinek ha avuto nella nostra tradizione gius pubblicistica proprio perché la nostra tradizione che così spesso viene fatta risalire appunto a Gerber a Laban Orlando è sempre detto anche lui accusato di formalismo ma insomma in realtà Orlando nasce con interessi prevalentemente storici e quegli interessi non vengono mai meno lungo tutta la sua esperienza e le tracce forti di una influenza di Jelinek non si rivelano solo per il fatto che la traduzione italiana delle grandi opere di Jelinek è stata opera di Orlando ma nell'idea stessa della relazione logica prima ancora che storica tra individuo e società quando Orlando dice che l'individuo non è neppure pensabile senza la società senza una società giuridicamente ordinata non fa altro che riprendere un pensiero che quello che tu hai cercato poi di imprimere in questo in questo titolo che non è solo suggestivo è profondamente vero di una dialettica necessaria tra il soggetto e la società nella quale il soggetto può solo essere tale e senza la quale non sarebbe neppure pensabile molto ci sarebbe ancora da dire soprattutto sul punto più delicato che è il concetto di autolimitazione sul quale penso che però torneranno anche gli altri interlocutori e torneremo in seguito nella discussione direi che può prendere a questo punto la parola Fulvio ringrazio grazie allora molto volentieri perché l'occasione di lettura del libro è stata molto felice per molte ragioni la prima di queste è che è un libro che rimanda ad altri libri è una cosa molto positiva per una lettura cioè è un testo che non si esaurisce nelle sole cose che troviamo in questo testo ma ci invita ad andare a rifrequentare studi già fatti o a riscoprire altri autori a rivedere anche eventualmente alcune convinzioni che si erano meditate in passato ed è interessante anche la collocazione di questa presentazione negli incontri nel ciclo di incontri perché a me è venuto in mente un testo che proprio ieri accennavo richiamavo a Diego che non è molto noto tra i giuristi perché l'autrice in realtà è una giurista di formazione ma poi ha seguito tutta altra strada ed è un testo di qualche anno fa di Carolina Foi su Heine e la vecchia Germania e la questione tedesca tra poesia e diritto in cui molti dei fili rossi che già dagli interventi del professor Dilcher e anche in questo testo così in qualche modo abbiamo avuto modo di isolare e riemergono riemergono costantemente e credo che il tema più importante che questo testo con la sua selezione di scritti ci pone di fronte è la complessità dell'esperienza giuridica in un determinato momento storico oggi è quasi strano dirlo perché ci troviamo in una pacifica accettazione di una specialità disciplinare di tante specialità disciplinari diverse quindi il gius pubblicista quando studia Yellinek lo studia per il suo contributo alla costruzione di un sistema all'elaborazione di nozioni di concetti è grato il gius pubblicista Yellinek per aver come dire nobilitato il diritto pubblico di fronte al diritto privato al diritto civile questo è il punto fondamentale però facendo questo ci dimentichiamo la complessità di quell'esperienza di quel pensiero cioè ci dimentichiamo che questa operazione di nobilitazione è solo una parte di quell'esperienza giuridica ed è solo una parte probabilmente quella che affiora quella superficiale ma non è la parte più significativa in un testo che ho avuto modo di studiare con attenzione qualche anno fa di un gius pubblicista tedesco importante Erich Kaufmann una voce su amministrazione e diritto amministrativo l'autore al termine della voce ricorda fa una rassegna dei più importanti giuristi che a suo modo di vedere hanno influenzato l'evoluzione della riflessione sull'amministrazione e tra questi figura naturalmente anche Jelinek ma distingue chiaramente Jelinek da Gerber e lo distingue perché dice che mentre Gerber ha quasi simmetricamente seguito l'Aband l'Aband cerca la razionalità e la tecnica nel diritto civile e lo stessa cosa dice Faghero e Jelinek dice trova un fondamento dice Kaufmann aprioristico e psicologico ecco questo dice Kaufmann ma che cos'è questo fondamento aprioristico e psicologico se non un ragionamento sulla complessità del fenomeno giuridico e sull'anteriorità di questo fenomeno rispetto a manifestazioni di tipo razionale e tecnico c'è qualcosa che viene prima e questi saggi ragionano su questo qualche cosa che viene prima cioè su questa opposizione tutta filosofica e tradizionalissima nella storia dell'Occidente tra il tutto e l'individuo e da questo punto di vista si capisce molto bene l'importanza che per Jelinek ha questa contrapposizione proprio nello scritto credo su Spinoza e Goethe dove vuole spiegarci vuole chiarire che Spinoza è molto interessante perché si ricorda di questo approccio totalizzante che per Jelinek è rinunciabile e se ne ricorda in modo razionale logico in fondo ciò che fa Spinoza è costruire un sistema di concetti di nozioni che sono tra di loro concatenate è un'architettura giuridica potentissima però allo stesso tempo contrappone Spinoza a Goethe perché Goethe avrebbe vissuto personalmente questa esigenza di totalità ma non l'avrebbe ridotta in schemi in schemi che si producono da soli perché da soli come dire non 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 si abbeverano a questa complessità precedente quindi trovo che effettivamente questo saggio sia molto significativo perché ci dà proprio la misura di quel fondamento che Kaufman così sinteticamente diceva prioristico e psicologico in realtà è proprio filosofico fondamentale profondo di tutta l'opera di Jelinek la questione della recezione italiana di Jelinek è io credo molto interessante di questa proprio dimenticanza della complessità perché se Orlando ha avuto il merito della traduzione e quindi della diffusione di una opera importante di Jelinek ovviamente poi però solo quello Jelinek si è introdotto nell'ordinamento italiano invece Saralagi ci presenta oggi l'altro Jelinek cioè ci presenta l'altra metà della luna senza la quale quel solo Jelinek diventa la stessa cosa di Gerber e la dottrina italiana quando all'inizio del novecento legge Gerber e legge Jelinek in fondo legge la stessa cosa ha l'impressione di leggere la stessa cosa e l'unico momento in cui si avverte che questi autori non dicono la stessa cosa è in una discussione molto accesa che però viene presto troncata prima dell'inizio della prima guerra mondiale sulla questione dei comuni e della loro possibile autonomia lì ci sono degli scontri anche vivaci in dottrina in cui si evidenzia l'importanza dell'autonomia del comune come soggetto collettivo perché proiezione dell'autonomia dell'individuo come valore irrinunciabile sia pur nell'unità del diritto statale allora chi in quegli anni immagina che ai comuni vadano riconosciuti necessariamente spazi maggiori di autonomia si richiama a Jellinek e si nota la distinzione tra Jellinek ed altri invece autori tedeschi che vengono utilizzati quasi strumentalmente dall'opposta tesi che invece avrà la meglio nel dibattito italiano di quegli anni e che condizionerà moltissimo anche l'attività del Parlamento che invece non seguirà l'auspicata come dire riforma dell'ordinamento comunale quindi abbiamo un momento in cui la differenza viene colta però è quasi marginale anche perché non se ne coglie il legame molto stretto con questa riflessione sul ruolo irrinunciabile dell'individuo sono davvero pochi gli autori italiani che in quel momento anzi sono proprio autori minoritari che in quel momento espressamente ragionano su questo punto un momento un altro momento in cui il dibattito avvicina a Ielinek a parte della dottrina italiana è quando si ragiona sulle trasformazioni costituzionali sulle trasformazioni dello statuto albertino su che cosa accade negli anni venti in Italia nella fine degli anni venti in Italia e anche in quel momento gli autori critici nei confronti di ciò che sta accadendo in Italia ricordano che quella costituzione non può essere non modificata ma non può essere alterata nella sua finalizzazione complessiva perché è il gesto massimo dell'autolimitazione della sovranità statale e lì qualcuno ricorda ovviamente anche la dottrina di Ielinek però è una ricezione che è avvenuta in modo superficiale di cui si è apprezzata molto questa operazione di dare dignità a nozioni a concetti del diritto pubblico come a quelli del diritto civile quindi costruire un'architettura ma dimenticandosi in fondo questa differenza in realtà enorme che in questi saggi emerge devo dire che di tutti questi saggi quello che mi ha colpito di più oltre a quello su Spinoza e Goethe mi ha colpito di più quello sulle minoranze che in realtà riprende un tema noto della riflessione di Ielinek ma è un saggio di estrema modernità estrema modernità è un saggio che non si può ridurre semplicemente al ragionamento sullo statuto delle opposizioni è un qualche cosa di più e trovo che sia interessante nel testo anche l'accostamento al saggio sulla guerra perché la guerra per Ielinek non è soltanto il conflitto internazionale in quel saggio si dice ad un certo punto se non ricordo male tutto è conflitto nella società tutto è conflitto quindi c'è l'acquisizione di un tema importantissimo che non è stato sempre condiviso nella dottrina giuridica liberale che il conflitto fosse un qualche cosa da internalizzare nella costruzione istituzionale e questo è un elemento molto significativo e allora lo statuto delle minoranze i diritti delle minoranze non sono altro che un modo di razionalizzare il conflitto ma la modernità ulteriore di questo di questo scritto è il riferimento alla necessità di istituti terzi chiamiamo di mediazione i giudici il giudice il giudice costituzionale ecco il riferimento all'esperienza d'oltreoceano è veramente interessante è la corte suprema ci dice ci dice Yellinek che tutela le minoranze è la corte suprema che fa questa mediazione nel conflitto e quanto è moderno questo questo approccio cioè il giudice costituzionale come il mediatore dei conflitti quindi non semplicemente come il garante di uno statuto formale della minoranza ma anche come il garante di quello che modernamente oggi si chiama un bilanciamento tra come dire principi che sono tra di loro contraddittori o tra visioni anche tra di loro contraddittori di uno stesso principio si sofferma molto Yellinek in questo saggio sul grande problema di come preservare la minoranza come diversità come diversità sostanziale non soltanto come posizione che ha bisogno di un contraddittorio che ha bisogno di essere rispettata in una fase deliberativa non è questo il tema è qualcosa che va che va oltre e quindi e trovo interessante anche il fatto che Yellinek ragioni si soffermi anche a lungo sul pensiero di Calun perché questo autore è anche scomodo per certi versi e riesce a coglierne in qualche modo a sdoganarne ecco in qualche modo il profilo critico più interessante quindi estrema modernità di questo di questo testo e anche estrema consapevolezza su quello che sarebbe accaduto nel futuro perché in questo saggio sulle minoranze ad un certo punto verso la fine le ultime pagine Yellinek affronta il tema del diritto delle minoranze nel contesto della trasformazione da stato liberale a stato democratico dice la società moderna è coinvolta sempre più dal processo di democratizzazione e dopo questa frase predice il futuro perché chiaramente dice quello che succederà dice tutte le nazioni civilizzate stanno dando incontro ad un generale fenomeno di livellamento qui inteso livellamento nel senso proprio di comune a secondare questo processo di democratizzazione ciò che i geologi affermano per le montagne ossia che nel corso del tempo essi si sbriciolano e sprofondano verso il basso è indubbiamente vero anche per la società in un futuro più lontano si manifesterà poi una seconda tendenza che verrà accettata di buon grado dai poteri diminanti l'imposizione da parte dello stato di una direzione degli affari sociali e umani di tipo collettivistico che si fonderà sul principio della solidarietà tra gli individui diventerà così sempre più grande quella parte della propria libertà indipendenza che l'individuo dovrà sacrificare alla collettività e colui che cercherà di fermare tale processo in nome della difesa dei diritti individuali sarà inevitabilmente considerato un retrogrado e intravede il crollo il tramonto di una cornice che era tipica di una visione liberale ottocentesca lo intravede totalmente ne intravede i pericoli intravede l'affermazione anche di ciò che sempre con il sistema democratico si accompagna la forza dell'opinione pubblica richiama Tocqueville richiama il pericolo di questa di questa trasformazione però ricorda come questo suo riflettere sulle minoranze sui diritti delle minoranze sia antidoto antidoto nei confronti di questa di questa trasformazione già avvenuta dice oltreoceano già osservata in quella sede ma appunto come si diceva già in quella sede curata tra virgolette con questa istituzione terza questo giudice costituzionale che si fa mediatore e che invece nel continente nel continente ancora non si era non si era sperimentato quindi c'è anche una apertura se vogliamo una critica da un lato nei confronti di questo processo di democratizzazione ma è una critica probabilmente psicologica forse sì cioè nostalgia di una di una cornice che si sa che in qualche modo è costretta a tramontare però al contempo c'è l'accettazione di questo sviluppo sociale anche questo è un elemento importante del lavoro di Yellinek i giuristi italiani che utilizzano il portato tecnico giuridico del lavoro di Yellinek non sono molto inclini ad accettare la trasformazione non sono molto inclini ad accettarla e quindi spostano la loro azione su un piano che è squisitamente tecnico giuridico e invece il messaggio che quasi ci dà Yellinek è che il mondo si evolve che la società si evolve che è qualche cosa di complesso nel quale il giurista è un razionalizzatore ma non un razionalizzatore formale è qualcuno che si confronta con questo conflitto ecco è questo il luogo del giurista quindi credo che questo messaggio finale di Yellinek sia una delle cose più significative che si trovano in questo testo credo però che una cosa emerga anche in tutti questi saggi e lo dicevo poco fa il senso della nostalgia cioè io credo in parte che e ripenso così di nuovo a quell'espressione usata da Kaufman quando si riferisce a Yellinek psicologico credo ecco che in parte che in parte sia vero molte delle cose che Yellinek dice in questi suoi interventi mi ha ricordato l'inizio del mondo di ieri di Zweig che comincia tra l'altro con un con un verso di Goethe non a caso sullo sullo straniamento dell'individuo nel brulichio delle cose del mondo e tutto l'inizio sul mondo della sicurezza il mondo di ieri tutto l'inizio di questo testo è un pochino lo sfondo del ragionamento di Yellinek cioè l'idea che mi sono fatto è che questo secondo Yellinek sia questo altro Yellinek sia nostalgico probabilmente di una società di una realtà che forse mai vissuta ma immaginata e sentita come come fondamentale e che tuttavia però nonostante questa nostalgia non smetta di essere in parte ottimista cioè questo tentativo di fondere la lezione di Leibniz con però un realismo un realismo concreto ecco quindi da questo punto di vista c'è una proprio una forte implicazione personale che traspare da questi scritti un qualche cosa che va al di là della scienza come siamo abituati ad immaginarla ecco credo che l'aspetto probabilmente biografico e il collegamento con la realtà sociale e politica in cui si trova sia molto molto stretto molto di più di una semplice attenzione alla politica o ai grandi movimenti della storia quindi c'è questo tono che appunto mi ha ricordato proprio una riflessione amara che è molto importante e molto bella che viene appunto scritta da Zweig nel 1941 dopo aver verificato tutto ciò che è accaduto con il tramonto di una determinata società e di una determinata idea anche del diritto e della sicurezza e della sicurezza un'ultima cosa mi viene in mente il lavoro di Jellinek mi ha anche ricordato un testo che mi ha fatto scoprire Luca che mi ha prestato qualche tempo fa un lavoro di Sintzheimer sui classici ebrei del pensiero giuridico tedesco in cui c'è un ritratto dedicato a Jellinek un lungo ritratto dedicato a Jellinek ed è molto interessante che proprio in quel testo si metta in luce la questione dell'irriducibilità dell'individuo al tutto come la lezione ultima di Jellinek di fronte all'avvento del nazismo e all'impossibilità di ridurre la dimensione individuale alla volontà di un solo soggetto che si fa interprete di uno spirito di popolo complessivo scritto espressamente questo nel ricordo di Sintzheimer ed è effettivamente molto evidente ecco anche nelle riflessioni che troviamo in questi saggi grazie 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 per questo bell'intervento che insomma per noi è un po' la continuazione di quello che abbiamo cominciato a fare qualche anno fa quando abbiamo messo in piedi quell'incontro su ordine politico e ordine giuridico perché insomma il problema è sempre questo non solo l'irriducibilità dell'individuo al tutto ma anche l'irriducibilità del diritto alla politica in fin dei conti se se la tradizione italiana ha ereditato ha assunto l'insegnamento di Jelinek lo ha fatto certamente in un moto di giuridizzazione della politica come si dice ma quello non era semplicemente un come dire un moto di attrazione nel grande esempio della pandettistica della costruzione di un sistema organico e compiuto del diritto privato che poteva fornire alla politica l'esempio della costruzione di un sistema che però avesse lo stesso rigore scientifico del diritto privato il diritto pubblico come sistema ma era qualcosa di più era era la costruzione di un argine di un argine contro il vero senso del positivismo giuridico che è la riduzione del diritto alla politica o alla politica come espressione della volontà generale come pura espressione di un atto di volizione della sovranità il diritto come argine come barriera insormontabile e da questo punto di vista certamente l'insegnamento di Jelinek è passato in Orlando almeno nel vecchio Orlando sia pure deluso delle figure e delle costruzioni jelinekiane quando dopo la catastrofe riflette sulla caducità del concetto di autolimitazione sulla sua debolezza davanti alle pretese del totalitarismo ma è anche Orlando che davanti ai costituenti continua a rivendicare la supremazia del diritto sulle scelte ideologiche o sulle scelte politiche ricordando che anche Napoleone era un genio della politica ma col diritto ci sapeva fare poco e quando i codificatori gli portarono la bozza del codice e lui lesse che la donazione era un contratto diede un tratto di penna e disse no ma che contratto è un atto di liberalità non c'è che il donante che si obblighi e invece no diceva Orlando si obbliga anche il donatario per cui non c'è non c'è nulla da fare si potrà anche scrivere in un codice o in una costituzione quel che si vuole ma la verità del diritto resta un'altra era un modo caparbio per riaffermare il senso della giuridizzazione della politica che appunto è il senso della irriducibilità del diritto alla politica non certo la trasformazione di tutto ciò che è politico in in un in un sistema in un sistema rigido di regole giuridiche la parola a Riccardo Salomone grazie grazie Diego della parola e soprattutto grazie a te e ai colleghi per l'occasione di dialogo su questo bel volume insieme a te insieme alla curatrice insieme all'amico Fulvio e soprattutto insieme al professor Dielker io mi limito veramente a qualche considerazione dal mio angolo visuale dell'esperienza giuridica che è quella del diritto del lavoro ho più dubbi più domande che certezze certamente non sono in grado di fare né una recensione in senso proprio al volume né tantomeno sono in grado di tracciare un profilo di Jellinich del suo pensiero giuridico filosofico o politico posso dire che ho imparato molto dalla lettura del volume e dei saggi che sono raccolti nel volume ho imparato molto dalle cose che ho sentito qui qui oggi e certamente questo mi restituisce una figura più complessa ricca di sfumature più varia direi così della semplice etichetta di gius positivista pubblicista di stampo liberale che spesso viene affibbiata a Jellinich certo posso aggiungere che Jellinich dal punto di vista della cultura giuslavoristica italiana è stato un autore nel complesso poco considerato se non per un qualche piccolo profilo sul quale poi proverò a dire qualcosa ed invece credo ne sia buona testimonianza l'ultimo dei saggi quello sul diritto delle minoranze ci sono certamente degli aspetti che meriterebbero di essere approfonditi meriterebbero di essere sondati con maggiore attenzione certamente i passaggi che sono già stati citati sull'esperienza americana e quella che è stata poi definita come la lotta dei giudici contro la legislazione sociale che però Jellinich mi sembra veda più nella polarizzazione fra giudice e legislatore magari anche nella polarizzazione fra maggioranza e minoranza forse forse anche nel rapporto fra singolo e tutto non saprei dire o meglio non riesco a dire dalla sola lettura di quel saggio se Jellinich ha anche uno sguardo profondo sulla dimensione appunto sociale anzi rispetto ad alcuni accenni che vengono fatti al riposo dominicale alla legislazione americana sulla tutela dei soggetti più deboli mi pare che Jellinich risolva tutto nella questione della libertà dei singoli più che nella dimensione dei soggetti diciamo così bisognosi di tutela sul piano collettivo e nella dimensione della socialità di questi soggetti dicevo prima che la dottrina giuslavoristica non si è molto interessata a Jellinich c'è un'eccezione importante che è l'eccezione di Giugni nel suo lavoro che sicuramente dal nostro punto di vista può essere considerato come il lavoro che ha curvato metodologicamente il diritto sindacale il diritto del lavoro nel dopoguerra italiano dove Jellinich viene citato due volte e proprio in relazione allo studio di Santi Romano e alla difesa di Orlando dello studio di Santi Romano in relazione appunto all'introduzione che Orlando scrisse alla traduzione della dottrina generale del diritto dello Stato nel quale Orlando difende Santi Romano dalle accuse di contaminazioni sociologistiche che qualcuno gli aveva imputato e questo è un passaggio importante perché la teorica di Giugni e direi il modo con cui Giugni affronta metodologicamente il diritto sindacale è invece in grande parte debitore di quell'impostazione che appunto Ugo Sinsheimer attraverso il suo allievo Can Freund ha trasmesso a Giugni ed anche naturalmente di Otto von Gierke che è l'autore più citato dopo Sinsheimer da parte di Giugni rispetto a cui noi possiamo sicuramente dire che il diritto sindacale il diritto del lavoro è un diritto sociale e questo concetto non può essere colto attraverso una dinamica e una dinamica e una disamina soltanto astratta ma deve essere colto attraverso la verifica storica non solo il sociale di Giugni il sociale di Sinsheimer vorrei dire forse anche il sociale di Gierke ma non voglio spingermi troppo in là non è il sociale in sé il sociale appunto come concetto astratto ma è l'immagine che gli istituti del diritto privato proiettano sulla società civile e dunque in realtà Giugni prende da Sinsheimer e da Gierke filtrati attraverso probabilmente il modello di Santi Romano che appunto ha a che fare con un'altra cultura un'altra disciplina l'idea della pluralità degli ordinamenti giuridici l'idea degli ordinamenti giuridici originari l'idea del diritto spontaneo dei gruppi da lì fonda la teorica della contrattazione collettiva e del potere di autonormazione dei gruppi e questa autonomia è un'autonomia originaria che non può essere riconducibile interamente all'ordinamento dello Stato e questo è il punto chiave che credo Yellinek non colga o non voglia cogliere probabilmente per una ragione diciamo appunto epistemologica o culturale e cioè il fatto che lo Stato trova il sindacato lo Stato trova i gruppi sociali non li crea e dunque persino il potere costituzionale non potrebbe mettere in discussione il ruolo del sindacato la libertà sindacale il diritto di sciopero almeno questa è la lettura che viene data normalmente di quella teorica e così da questo punto di vista vedo anch'io nettissima in giugno in quello che sarà dopo la polarizzazione fra Yellinek e Ghirke con la preferenza netta e la scelta metodologica per Ghirke per Sintzheimer Ghirke viene accusato questo è un punto sul quale ho molti dubbi e che mi piacerebbe diciamo porre alla attenzione sicuramente del professor Dilker Ghirke viene accusato di una involuzione autoritaria che sarebbe implicita nella sua teoria e quindi viene poi lasciato fuori dalla ricostruzione teorica del rapporto fra contratto collettivo e contratto individuale perché il contratto collettivo viene recepito nel contratto individuale e non viene valorizzato nella sua funzione di strumento di regolazione diciamo così bilaterale delle relazioni collettive delle relazioni industriali proprio per evitare quella contaminazione che viene imputata alla teorica di Ghirke e quello che a me resta come diciamo dubbio e che forse in qualche modo sia il volume che le cose che ho sentito mi hanno spalancato è se si possa leggere la teorica dell'autolimitazione se si possa ripensare questa teorica come anche una teorica che costruisce spazi di libertà dentro ai quali c'è il diritto dei gruppi dentro ai quali c'è l'autonomia privata dentro ai quali c'è l'autonomia privata collettiva oppure se questo è un passo troppo forte da una parte e dall'altro invece pensando a Ghirke se si possa finalmente eliminare quella contaminazione diciamo quella precomprensione legata a una certa lettura di Ghirke come portatore di una visione autoritaria dei rapporti di lavoro perché quello sarebbe effettivamente dall'altro punto di vista un significativo passo in avanti vi ringrazio grazie grazie per questo intervento estremamente interessante un contributo ad una discussione da ricominciare e ricominciamo la parola a chi desideri prenderla in questo momento ecco vorrei che questa fase della discussione la coordinasse Luca che divide con me e con Fulvio la responsabilità scientifica di questi incontri mi piace di aver mi prendo nello spirito di Yellinek l'autoresponsabilità di aver organizzato questi convegni nella autolimitazione no penso che gli spunti sono tanti diamo subito la parola alla professoressa boi sì intanto ringrazio il collega Diego Quaglioni e Nogler per l'invito a questo seminario che trovo molto interessante anche se io non sono un'esperta della materia di storia del diritto sono una storica del pensiero politico e naturalmente questo questo libro di Sara Laggi ci fa vedere appunto quanti punti di contatto ci siano non soltanto a livello teorico ma direttamente esaminando l'opera di un pensatore che come ricordava il professor Dilch prima viene rimesso in discussione rispetto alle categorie del giuspositivismo del o prima come ricordava Diego Quaglioni del positivismo del formalismo giuridico di Kelsen eccetera c'è un tentativo questo libro credo garbato ma molto preciso e puntuale di mettere in discussione una serie di luoghi comuni storiografici e da quel punto di vista io ho trovato leggendo e rileggendo questo testo il saggio su le beziehungen fra Spinoza e Goethe il saggio più affascinante fra quelli scelti affascinante proprio perché lì Elinek fa lo storico del pensiero politico lo storico del pensiero in generale si apre a una dimensione appunto molto poco tecnica ma leggendo quelle pagine che sono di un livello molto alto riflettevo su quelli che sono i punti di riferimento per la storia del pensiero politico a livello internazionale la famosa lecture di Isaiah Berlin su libertà negativa e libertà positiva quella del 1958 in piena guerra fredda quando contrapone libertà negativa dell'Occidente alla libertà positiva dell'Unione Sovietica e si può contestualizzare capire tante cose tante anche debolezze di quella lecture che è stata diciamo innalzata a manifesto del liberalismo una delle debolezze più terribili è quella di quando Berlin pone Hobbes a capostipite della storia della libertà negativa una cosa per cui Jelinek si sarebbe rivoltato si rivolta ancora credo nella tomba Jelinek che aveva scritto il saggio sull'assolutismo in Hobbes e Rousseau questa libertà negativa che viene declinata in uno schema duale da Berlin rispetto allo schema di Benjamin Constant quella sua conferenza tanto più bella sulla libertà delle antiche e dei moderni ed è comunque un pezzo importante nella storia del pensiero politico a cui forse la storiografia recente ha dato troppa importanza una volta caduto il muro forse questa cosa poteva venire messa fra parentesi invece no perché Skinner si rifà a Berlin cercando di individuare nel repubblicanesimo una libertà negativa poi ci ripensa grazie a Petti dice no è una terza forma di libertà e ancora Amartya Sen ancora negli anni 90 deve prendere distanza dalla lecture di Isaiah Berlin per affermare la sua idea di libertà e sviluppo eccetera eccetera invece a me sembra che Jellinek sia su un livello assolutamente più alto rispetto a Berlin quando tenta una sintesi straordinaria e dice che Goethe è quello che ha trainato le idee del tutto di Spinoza nella cultura tedesca e universale trasmettendola a Hegel Schelling eccetera eccetera però non passivamente ma elaborando la sua concezione dell'individuo come solo un artista poteva fare rispetto al filosofo io trovo che sia uno scritto di una di un respiro straordinario e anche qui ho fatto un confronto con l'opera di Jonathan Israel che è quello che rivendica la centralità di Spinoza nel pensiero politico dell'illuminismo e dell'illuminismo radicale anche lì ho fatto un salto in giù enorme perché ecco la la dimensione su cui si muove Jelinek è diversa è più alta e penso che sia importante rivendicare sì il ruolo di Jelinek negli studi del diritto eccetera ma anche penso che appunto questo libro faccia giustizia alla capacità di questo autore di spaziare su campi diversi e di dare contributi veramente importanti in settori in cui secondo gli schemi rigidi del giustipositivismo Jelinek non avrebbe dovuto dire assolutamente niente grazie grazie per questo intervento che a mio parere si inserisce benissimo nello spirito dei seminari tenuti dal professor Dillher che tentano di così scoprire delle continuità e delle discontinuità diverse da quelle che diciamo così dominano certi discorsi attualmente nella riscoperta di alcuni autori che per lungo tempo sono stati letti piuttosto come fonte diciamo di radici poco fruttuose del pensiero contemporaneo in questo senso anche la riscoperta di Jelinek penso che sia uno dei punti che accomuna sicuramente la lezione di Dillher con l'operazione fatta da Sara Lagi adesso non so se c'è qualche dottorando che magari anche nello spirito dell'altra volta del porre delle domande ai nostri prego buongiorno grazie mille le vorrei chiedere professoressa Lagi se lei può passare in rassegna questi saggi e raccontarci come Jelinek affronta se affronta qui il problema del rapporto fra diritti soggettivi e autolimitazione che per me è sempre molto problematico come concetto io ho letto Jelinek soprattutto per quello che riguarda il suo contributo allo studio della dichiarazione dei diritti dell'uomo del cittadino e le riflessioni che fa a quel proposito sull'influenza che la tradizione del pensiero riformato ha sul nascente costituzionalismo statunitense e quello è un saggio se io non l'ho frainteso in cui il concetto di autolimitazione non compare o compare veramente molto poco lì il diritto soggettivo viene presentato come un diritto che si contrappone allo Stato c'è un passaggio per me molto efficace in cui Jelinek arriva a dire che si contrappone perché non è dichiarato dallo Stato ma annunciato dal Vangelo e c'è una pluridimensionalità del diritto che è molto lontana da certi schematismi io vorrei ringraziare la collega per questi spunti sempre molto interessanti direi che questi cicli di lezioni sono delle lezioni che non si esauriscono nel momento in cui gli autori terminano il proprio contributo ma continuano perché stimolano delle riflessioni e in questa linea io vorrei fare una domanda che dal mio punto di vista è assolutamente prevedibile e vorrei che lei ti dicesse qualcosa sulla sua esperienza di traduttrice in questo lavoro altre domande ancora io vorrei concludere alla fine perché è giusto dare all'autrice l'ultima parola io tento di dare una piccola mano rispetto alle domande molto specialistiche anche fatte da Riccardo Salomone per poi ridare la parola diciamo ai tre interventori che hanno se hanno ancora qualcosa da aggiungere sicuramente il professor Dilfer è stato punto diciamo sul vivo dalla lettura che è una certa dottrina italiana da di Ghirke precursore diciamo di visioni totale caratteristiche allora innanzitutto grazie per il libro questo è un libro che quando si apre la busta uno lo vede dice ah che bello se non l'avessi ricevuto l'avrei comprato perché già dal titolo cattura gli interessi che almeno personalmente caratterizzano anche il mio lavoro per cui proprio diciamo così è stato benvenuto da me e letto subito specialmente nella sua introduzione perché Jelinek è effettivamente un autore centrale anche per il diritto del lavoro e io personalmente nella mia attività di ricerca ho incontrato Jelinek quando ho letto Ernst Frenkel uno degli allievi di Hugo Sintzheimer che in un suo testo a un certo punto dice beh la teoria di Hugo Sintzheimer dell'autodeterminazione collettiva e sociale deriva da un libro di Jelinek che è un libro che andrebbe riscoperto anche Le Verfassungs Enderum und Verfassungs Wandrum di Jelinek è un'osservazione di Frenkel che non è giustificata dalle citazioni che fa Sintzheimer nel suo libro ma è giustificata da una persona che è stato l'allievo più chiaro più caro di Sintzheimer quello che più a lungo ha vissuto vicino a lui per cui era sicuramente un riferimento molto vivo e in effetti leggendo il libro di Jelinek e poi c'è il passaggio che proprio giustifica tutto questo quando Jelinek a un certo punto dice che è tempo di riconoscere quel legislatore sociale che sono le parti collettive che concludono contratti collettivi è tempo di riconoscere il contratto collettivo come una forma di legislazione sociale per cui c'è proprio dentro tutta la teoria di Giunni c'è tutto diciamo è molto interessante come Jelinek parli della politica nell'introduzione di questo libro perché lui da una parte dice questo libro si muove sulle linee di confine tra il diritto e la politica e riafferma la mia impostazione quella che è sempre stata la mia impostazione che è impossibile fare diritto senza fare politica e poi alla fine però dice state attenti nel leggere questo libro che evidentemente si occupa anche della rivoluzione perché poi se c'è un avandlung diciamo della costituzione che provoca diciamo il mutamento è la rivoluzione non confrontete quelle che sono le mie scelte etiche personali la mia gesinnung con quelle che sono le mie opinioni no? e questo è molto significativo perché così ci invita a riflettere su quelle che erano invece le gesinnung di Jelinek dove andava il suo cuore dove andava la sua scelta morale diciamo se non andava nel senso della rivoluzione e andava nel senso appunto di quello che si legge nel libro cioè della valorizzazione ad esempio della sfera sociali collettive che ci sono nella società e che lui in questo libro riesce a catturare anche diciamo in evoluzione rispetto a testi precedenti e che sia così che sia in questo senso lo si vede nel ritratto che Sinzheimer fa di Jelinek nel suo libro che Fulvio ha ricordato alla fine del suo intervento che è un ritratto bellissimo in cui Sinzheimer si sofferma a lungo sui primi due saggi di questo volume mettendoli in collegamento con il saggio sulle mutazioni diciamo della Costituzione di cui Mortati tra l'altro diede una lettura molto riduttiva nel suo libro sulla Costituzione materiale che invece dal punto di vista teorico era molto diciamo così dal punto di vista delle categorie non della soluzione di identificare il partito come il centro diciamo dello Stato molto tributario a Jelinek e perché nel ritratto che Sinzheimer fa in cui collega Jelinek con Gierke cioè li vede in continuità di pensiero specialmente Gierke che studia Thusius che studia diciamo la dottrina del dito pubblico e Sinzheimer ha un bersaglio questo libro è stato scritto contro Carl Smith perché questo libro vuole dimostrare che la cultura ebrea non è quel minus che Smith insomma nel 34 teorizzò come la cultura astratta che non riesce a catturare il concreto diciamo che viene invece imputato alla cultura germanistica e Sinzheimer dice Jelinek è stato proprio uno degli autori che ha spostato cioè che ha diciamo così contraddetto scientificamente l'idea dello Stato come principe il principe che dice lo Stato sono io e il riconoscimento della personalità giuridica allo Stato è proprio questo è proprio lo spostamento etico dello Stato dai singoli individui diciamo per cui è una scelta etica così come l'autonomia dell'individuo è una scelta etica cioè l'individuo che si autolimita che riconosce che ci sono anche gli altri e quindi non impone la propria volontà così lo Stato deve fare un'autolimitazione nei confronti dei diritti degli individui o meglio dice Sinzheimer delle persone dando proprio l'idea che la persona ha questa caratterizzazione anche normativa cioè è il prodotto del tutto in questo senso cioè solo lo Stato che riesce a proteggere l'individuo gli rende possibile diventare una persona no? e allora qui c'è tutta la modernità insomma di c'è tutto quello che è alla base delle nostre costituzioni del secondo dopo guerra e mi chiedo e mi chiedo se quando Jelinek insiste sulla necessità che il gius pubblicista debba anche studiare la politica non sia null'altro che un'anticipazione del modo moderno di fare il giurista cioè del giurista che non può più disinteressarsi di quello che c'è prima o di quello che c'è dopo le norme e prima delle norme che cosa c'è? C'è la politica in senso alto la politica dei valori la politica che riesce a ragionare sul contemperamento dei valori il dopo c'è la sociologia c'è l'empirico c'è quello che diciamo così impropriamente spesso è stato appiccicato addosso a Jelinek cioè di essere il teorico della forza normativa della fatticità dove invece c'è molto di più di quello che tradizionalmente anche Mortatti gli mette diciamo così nei testi e in questo Sintzheimer collega Jelinek a Gierke perché dice in realtà quella diciamo così contrarietà alla visione dello Stato col Principe in realtà è un'operazione teorica che era già stata iniziata da Gierke rispetto alla quale Jelinek si pone in continuità e il saggio di Sintzheimer si chiude con una citazione di Max Weber che conobbe molto bene Jelinek in cui lui dice Jelinek trasmette qualcosa dell'antica saggezza orientale e questo è molto bello questo è molto bello è il primo pensiero quando si incontra la parola armonia nei saggi di Jelinek e ovviamente non poteva che essere così per un autore che ha riscoperto Leibniz perché Leibniz ha avuto un ruolo molto importante nella trasmissione dell'Occidente di tutta una serie di pensieri orientali e c'è anche un po' la pacatezza di chi dà un esito diverso di quello che diede Stefan Zweig al fatto di un mondo che stava cambiando qualcosa che Stefan Zweig non riuscì a interiorizzare e che lo portò diciamo al suo gesto estremo diciamo non prima di aver scritto quel libro bellissimo che è la novella degli scacchi che vi consiglio perché è un libro veramente straordinario anche per il modo con cui è scritto in tedesco ecco queste sono un po' le mie riflessioni che nascono diciamo più da quello che ho sentito che diciamo e hanno cercato un po' di raccogliere i vostri interventi e quindi diciamo c'è veramente un autore di cui spero che oggi si sia riuscito a trasmettere ai dottorandi diciamo la passione che può evocare quando si prende in mano e quando si approfondisce insomma un classico insomma come abbiamo detto proprio nel seminario scorso io adesso darei per primo la parola a Gerhard Dilcher forse per una precisazione su Gerhard che ho visto prima che sei saltato sulla sedia perché ovviamente io ho iniziato lo scorso seminario dicendo che l'operazione di Gerhard Dilcher è proprio quella di togliere certe etichette ad alcuni autori e l'autore diciamo a cui è stata attaccata l'etichetta in maniera più forte è stato proprio Gerhard recuperato diciamo da tutto questo filone di pensiero esso sì infruttuoso di Carl Smith e dei suoi epigoni diciamo anche nel periodo del primo secondo dopo guerra e tuttora diciamo io mi stupisco sempre delle grandi lodi che vengono fatte a Carl Smith che ogni volta che leggo mi sembra molto rudimentale diciamo le affermazioni prego grazie solamente poche parole gli aspetti dalla destra dalla sinistra erano troppo ricchi per darmi la capacità di rispondere veramente e dovrei anche leggere questi autori menzionati più intensamente anche di nuovo Ugo Sinsheimer per poter dare una risposta esatta ma quel che riguarda Gierke che mi sembra nel periodo specialmente degli anni 30 40 del secolo scorso e anche in altro modo dopo la seconda guerra era interpretato in un modo unilaterale e spagliato quel che riguarda il principio autoritario in Gierke io penso nel diritto di lavoro e generalmente si può comprendere Gierke solamente con questa dialettica costante si deve prendere sul serio la dialettica e molti autori non l'hanno fatto alcuni non sono capaci di pensare in una dialettica veramente perché c'è sempre questa dialettica fra unità eccetera da una parte e cipio monarchico eccetera lo Stato e dall'altra parte la pluralità la libertà l'associazione la cooperativa l'amore di Gierke come germanista e verso la pluralità l'associazione mentre il principio di unità è di Roma pensa che per lo sviluppo della civilizzazione dello Stato ambedue sono importanti e ci vuole lo Stato come unità con la sovranità eccetera ma mai senza la pluralità la libertà l'associazione e per lui magari lei l'abbiamo menzionato che è un fatto davanti allo diritto al diritto davanti allo Stato è un per lui l'associazione è un fenomeno reale come la persona fisica anche l'associazione è un fatto prima del diritto il diritto può dare una personalità giuridica sia alla persona naturale sia all'associazione alla corporazione allora non si può mettere peso sul principio solo dell'unitario dell'autorità specialmente nel diritto del lavoro Gierke nel primo volume del Genossenschaftsrecht dimostrava la speranza che il capitalismo sia un fenomeno cooperativo una produzione cooperativa del capitalismo così pluralità libertà i singoli che si uniscono mentre dopo ha visto che questa visione sia spagliata e per questo scrive della impresa come una struttura monarchica ma questa è un'espressione non normativa non deve essere normativa la normatività deve essere sempre nella dialettica ai due posti altrimenti tutto crolla è una formula della realtà dell'analisi della realtà l'impresa che si è sviluppata durante l'industrializzazione è una struttura monarchica sotto il comando dell'imprenditore ma per far un fenomeno sociale sano ci vuole la cooperativa in questa dialettica e per questo supporta i sindacati qualcosa che per un membro della società borghese come Gierke era un passo molto in avanti la società del venerismo metteva i sindacati lo sciopero trattati collettivi in parte sotto il diritto penale della polizia controllo della polizia così veramente vedere il principio unitario nel autoritativo nel diritto di lavoro è una cosa che lui vede nella realtà ma pensa che sia assolutamente necessario il contrapeso da parte dei sindacati come del principio cooperativo associativo come lui anche nel suo saggio sul germanico Stats che anche quando anche Gierke ha collaborato di fare la costituzione di Weimar c'è sempre questa dualità questa dialettica e lui vede nella evoluzione costituzionale della Germania dell'Ottocento l'evento più importante la rivoluzione il Parlamento del 1848 così non lo stato autoritario dell'ileminismo come anziano Gierke senza dubbio è stato un po' più conservatore della sua gioventù ma questo succede spesso spero che ho dato un po' una risposta alla sua domanda la tua non devo studiare ancora gli appunti di Sinsheimer grazie grazie Gerhard Riccardo non so se vuoi aggiungere qualcosa o Fulvio in realtà forse una cosa che mi viene in mente proprio nel saggio sulle minoranze sul diritto delle minoranze il problema dell'autolimitazione è trattato sullo sfondo perché si discute proprio del problema dell'importanza della maggioranza della maggioranza e di quale sia il limite per la maggioranza e c'è una come dire preferenza di Hellin ma anche perché poi gli è utile per discutere dell'esperienza statunitense per ciò che è avvenuto oltreoceano rispetto invece a ciò che è avvenuto in Francia perché in un caso in un inciso molto breve Yellin ricorda che nell'esperienza francese questa idea di limitazione della maggioranza non ha avuto molta fortuna ed è stata sempre disprezzata lui lo dice chiaramente questo era un pochino sollecitato dall'intervento di Andrew poco fa sono state tantissime sollecitazioni moltissimi appunti prego per la sintesi finale insomma di questo bel seminario grazie per tutti i vostri interventi davvero molto belli molto interessanti ho preso molti appunti io volevo concludere in realtà rispondendo alla domanda che mi aveva posto lo studente prima che si richiamava alla dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino allora è una delle opere più belle di Yellinek la mia preferita ma questo credo che interessi fino a un certo punto io invece sono abbastanza certa che ci sia anche lì il problema dell'autolimitazione prima il professor Nogler diceva una cosa in fondo Yellinek è interessato anche a capire cosa c'è prima delle norme quello scritto lì del 1895 è indirizzato a questo sostanzialmente lui prende ad esame il rapporto e fa una comparazione fra i bills of rights americani e la dichiarazione francese ne evidenzia i limiti le caratteristiche però il fatto che lui dia così tanta importanza a spiegare come secondo lui sono storicamente nati i bills of rights è un modo per farci capire tra virgolette la complessità storico politico e culturale che sta dietro il principio di autolimitazione c'è l'idea di uno stato che si autolimita che si ritrae sì ovviamente molto interessante da un punto di vista prettamente giuridico di teoria del diritto ma secondo me per capire fino in fondo l'idea jelenichiana di autolimitazione dobbiamo tenere presente che cosa Jelinek dice per esempio in quel libro lì sul modo concreto storico vivo vero tangibile attraverso il quale come scrive lui nel 1895 un popolo si appropria di determinati diritti vivendoli facendo un'esperienza poi ovviamente è un gius positivista e quindi aggiunge che quei diritti per essere tecnicamente tali devono essere riconosciuti dallo Stato come detentore della sovranità quindi io penso che anche se non dichiaratamente il problema dell'autolimitazione sia estremamente presente in quel saggio del 1895 semplicemente che ce lo fa vedere da un punto di vista diverso tra l'altro inaugurando e qui esco completamente dal mi rendo conto dal tracciato della storia del diritto ma quel testo lì sulle dichiarazioni ha aperto una narrativa e una serie di studi sulle origini degli Stati Uniti e dei Bills of Rights americani che è arrivata fino ai giorni nostri Jelinek appunto come lei ricordava pone l'accento sull'importanza dell'esperienza storica religiosa dei trasfughi di coloro che poi vanno a vivere nel nuovo mondo per professare la loro religione e il loro credo liberamente quindi penso che in realtà quello scritto possa essere considerato un pezzo del processo intellettuale teorico e di riflessione che poi porta Jelinek a elaborare il principio di autolimitazione in altri termini e qui poi concludo secondo me c'è una prenda il saggio sui diritti pubblici soggettivi che è di tre anni prima poi tre anni dopo arriva Dierklerung e Jamenschenberg e Reste c'è un profondo legame tra questi due saggi tra questi due libri ne sono abbastanza convinta la mia convinzione suscettibile di essere più o meno accolta e criticata però penso che ci sia una connessione profonda sono semplicemente le due facce forse ma diciamo così della stessa della stessa realtà e poi Jelinek dedica come veniva ricordato anche negli interventi denti campi o spazio abbia attenzione alla realtà americana che lo affascina sicuramente che lo affascina molto si ricordava la Corte Suprema il problema dei giudici la protezione e il riferimento a James Cullen che è un altro dei suoi grandi punti di riferimento insieme a Mill insieme a Tocqueville a Costin a Thomas Hare per esempio che a sua volta era uno dei punti di riferimento di Mill c'è una rete di riferimenti interessanti l'ultimissima cosa è il problema della traduzione io dico sempre che ho sbagliato completamente il lavoro e avrei dovuto dedicarmi alla mia passione più antica che è quella di tradurre dalle lingue moderne e quindi credo di aver fatto veramente a parte questo è stato difficile io non sono molto soddisfatta della traduzione io non sono mai soddisfatta di niente di quello che faccio quindi sono sempre sono molto ipercritica anche nei confronti di queste traduzioni per esempio non sono per niente contenta della traduzione del primo saggio sono un pochino più contenta di come ho tradotto l'ultimo perché è estremamente difficile perché c'è una parte in cui traduci parola per parola letteralmente poi ti devi chiedere chi è che sta parlando quando lo sta dicendo che cosa vuole dire e poi un tedesco tradurre dal tedesco è come tradurre dal latino come diceva la mia professoressa di latino quindi è estremamente estremamente faticoso e l'altra parte sfidante sul saggio di Goethe Spinoza il fatto che Yellen è un uomo di immensa cultura cita dal Faust cita dalle poesie senza indicare a pie pagina dove sta citando quindi ho dovuto prendere gli estratti delle poesie del Faust dell'Ur Faust eccetera eccetera e andare a vedere la traduzione perché ovviamente non mi posso non so mettere a tradurre Goethe a vedere la traduzione ufficiale di quei di quei brani poi mischi al Goethe pre Weimar il Goethe durante Weimar il Goethe dei dolori del giovane Werther il Goethe del Faust e per lui erano cose molto evidenti no per noi per me no e quindi anche questo è stato un lavoro di molto 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 difficile anche ricostruire le note che ho ritradotto perché cita titoli di libri senza l'autore a volte o indicando solo il cognome ma non il nome indicando a volte le date non le indica è anche sono è molto bello è molto bello però è molto difficile eh questo ah grazie cioè se potessi ci rimettere le mani sopra ben più di una volta bene allora speriamo che la passione prevalga comunque sulla autocritica diciamo e che questo porti altri frutti diciamo come quelli che abbiamo discusso oggi io rimando tutti Diego a domani mattina alle 10 per la lezione conclusiva del ciclo di lezioni di Gerhard in cui scoprirà un po' le carte insomma di quello che ha tenuto insieme tutto il suo ciclo di lezioni e Diego sarà il punto nel vivo quando poi concluderà le sue lezioni sono sicuro che sarà un'altra bella discussione grazie a tutti grazie grazie grazie